Jung diceva tutto ciò a cui opponi resistenza persiste. Cosa significa? Se tu non accetti ad esempio come Francesca che ho appena sentito in sessione che il tuo corpo ha bisogno adesso di tempi più lunghi di recupero, ha bisogno di modalità diverse rispetto a prima e quindi ti ci arrabbi sopra perché non lo accetti, tutto ciò andrà comunque a persistere, tutto ciò continuerà ad esserci perché se il tuo corpo adesso ovviamente ha modalità diverse tu con questa cosa ci devi fare pace, la devi accettare, quindi per quanto ti dà fastidio, per quanto senti che non ti sta bene questo è, quindi prima ci fai pace e prima andrai in quel rilassamento, in quell'accettazione che ti darà l'opportunità di recuperare in maniera molto più veloce, quindi fai attenzione perché tutto ciò a cui oppone resistenza in realtà persiste.